Ciao Fioi! Oggi vi faccio vedere come fare gli spaghetti con i sardi, innanzitutto che vuoi sardi fresche e spaghetti di qualità. Partimo verzendo e nettando le sardee, li tagliamo a tocchi, quindi teccia sul fogo, giostro d'olio quei buon, aglio e peperoncino. Le sardee e le dosue. Don't have salt, bevere, una bella grotta di limon e un giostro di bianco di quei buon, mi raccomando. Ripetiamo il pan finemente e lo tostemo su un tecetto. Ovviamente dopo tutta la staffa di gambe abbiamo un bel brusque. Quindi sal sull'acqua boente e due spaghetti. Un fiade limon anche sul pan tosta e una volta cotti i spaghetti li passiamo sulla teccia dei sardee. Guardè che cremetta ciò, sì o no Fioi? A sto punto attacchiamo ad impiattare e mettiamo i spaghetti sul piatto e il pan croccante e pardessora, come fosse formaio. Guardè che robetta ciò, che bontà! Beh, se vi faccio vedere il video mettete un like. Ciao!